Buongiorno, grazie per l'introduzione, soprattutto grazie per l'invito a presentare nuovamente l'abbiamo già fatto a Como e soprattutto grazie all'autoressa Fusi perché ci ha fatto uno spot sul poliestere che è fantastico, però ci credo, immagino che non fosse puramente promozionale, voglio dire che noi siamo produttori di filo di poliestere, quindi approfittiamo un po' di quello che è stato descritto nella sua presentazione, però insomma da quello che si vede, da quello che si evince, se io dovessi investire domani mattina lo faremmo nel poliestere, insomma, rispetto a quello che è stato fatto da altri. E poi approfitto anche di quello che è stato detto riguardo la tintura in massa, riguardo il colore, riguardo i pigmenti, soprattutto perché ci sono qui gli studenti, insomma, in fondo alla sala, come è normale che sia, quando io ero al vostro posto di questo si parlava pochissimo, quasi niente, quindi la tintura in massa era già una realtà consolidata da tempo e non se ne parlava né agli istituti tecnici né in università, non so se questo oggi avvenga, spero di sì e soprattutto che avvenga con più dettaglio possibile sui pigmenti e sui prodotti che vengono utilizzati, perché quando si arriva poi nel mondo dell'industria quella è una conoscenza, una competenza che va costruita. Non è così vero che si possano fare tutti i colori che si vuole, questo mi spiace doverlo dire e penso che i colleghi di Radici, insomma, lo possano confermare. Allora, per entrare nel vivo della presentazione parliamo di sostenibilità di utilizzi tecnici e in particolare uno, un utilizzo tecnico che tutti voi questa mattina venendo qui ne avrete approfittato, in quanto è il settore dell'automotivo comunque del trasporto, vi sarete seduti su un sedile di un auto, di un autobus, di un treno, ragionevolmente uno di questi potrebbe essere fatto in poliestra, nell'auto il 100%, negli altri metodi di trasporto in combinazione con altri prodotti. Perché vogliamo parlare del caso automotivi? Perché il settore dell'automotivo è estremamente tecnico, quando si parla di tessile tecnico si parla in genere, si pensa a protezione individuale, cordami come è stato nella presentazione della professoressa Fusi, ma il settore dell'automotivo che utilizza sostanzialmente un poliestere che potremmo immaginare tradizionale per la sua produzione è invece estremamente tecnico per le caratteristiche che richiede. E quindi vogliamo sottolineare questa cosa, lo vogliamo fare facendo anche una storia di come un'azienda come la nostra è riuscita a fare una transizione da un settore molto più tradizionale che era quello dell'arredamento per arrivare poi a quello dell'automotivo che è oggi il core business dell'azienda. Tra l'altro, una cosa che hanno detto prima, io dopo la presentazione dovrò scappare perché andiamo con altri nel pomeriggio e mi sento molto politico in questo, insomma presenzialista però purtroppo si sono cavallate le due cose. Questa è l'agenda, una presentazione non tanto relativa a come siamo ma per capire i passaggi che sono stati effettuati per arrivare lì e poi parliamo di automotivo, del new life e così via. Per capire come siamo fatti oggi la mission è una parte fondamentale, noi ci concentriamo su poliestere, in particolare colorato e ci rivolgiamo al mercato globale, quindi ovunque questo possa essere utilizzato. Il settore di riferimento, come ho già detto, l'automotive ma ovviamente rimangono ancora l'arredamento, l'abbigliamento e gli individui specifici, quindi quelli che sono veramente testi di tecnici con l'accezione che ho detto prima. Come intendiamo fare questo? Con innovazione e qualità e servizio, nonché sostenibilità all'ambiente ed ecco la seconda parte della presentazione. La storia che è complessa, insomma parte dal 1968, non ve la voglio descrivere assolutamente tutta, ve la potete poi leggere con calma, volevo semplicemente sottolineare due cose. Alla fine degli anni 80-90 il settore dell'automotive era dominato dalla fibra acrilica, è stato poi gradualmente sostituito dal poliestere e nei primi anni 2000, diciamo fine degli anni 90-2000, si entrano nel settore dell'automotive, direttamente e indirettamente con un'acquisizione, una società autofili in Inghilterra che è nata per fare il settore dell'automotive. Da lì in avanti abbiamo iniziato ad andare in giro per il mondo, quindi a servire il mercato globale in quanto il settore richiede produzioni delocalizzate un po' dappertutto e qui vediamo i movimenti in Turchia piuttosto che in Brasile e così via. Dopodiché negli ultimi anni, quindi nel passato recentissimo, un consolidamento in Europa, il settore automotivo è ancora estremamente forte in Europa e gran parte delle decisioni che riguardano i produttori europei vengono ovviamente prese qui in Europa. Il nostro ciclo produttivo parte dal polimero, passa attraverso tutte le fasi di produzione, quindi la filatura e finisce con il filo. Siamo anche dei grandi tintori, oltre che dei filatori, grande inteso come dimensione, non voleva essere una presunzione di capacità. Abbiamo probabilmente la tintoria più grande del proprio profilo poliestere con una capacità di circa 800 tonnellate al mese. Il tema dei carriere è ovviamente estremamente importante, tingiamo sotto pressione, quindi non è un problema legato alla filiaristica, ma occorre fare un'attenta selezione sui coloranti in quanto nella traduzione di coloranti possono anche rimanere tracce di carriere cloro organici e questo accade anche nei pigmenti, quindi è un tema estremamente sentito. Sottolineo qui la partenza del ciclo produttivo dal polimero perché un controllo di questa fase, come vedremo dopo, è fondamentale per riuscire a produrre e a mantenere gli standard richiesti per il settore dell'automotive. Il servizio globale dicevo prima, i numeri che leggerete con comodo dopo, serviamo più di 1.500 clienti, questo lo voglio sottolineare perché è un'attestazione sostanzialmente di servizio, ovviamente non sono tutti nell'automotive, ma la filosofia del servizio è quella di riuscire a darlo a tutti, indipendentemente dal settore di attività e dalla quantità che questi consumano. questo così che oggi il nostro mercato, il nostro turnover sia rappresentato da circa il 50% dell'automotive, il resto suddivido tra arredamento, abbigliamento ed altre applicazioni. Si è parlato prima di certificazioni, quella che voglio sottolineare qui è la 14.000 legata al sistema di gestione ambientale, si parlava di sostenibilità e attenzione all'ambiente, questo è un ulteriore conferma. Chi di voi ha avuto la possibilità di visitare il sito di Sandigliano avrà visto che oltre a questo sistema di gestione abbiamo un impianto di cogenerazione che utilizza olio vegetale ottenuto da una pianta che si chiama diatrofa, che non è una pianta né feed né food, crescendo in colte dell'Africa sostanzialmente, quindi ha un prodottissimo impatto e l'altra cosa interessante da vedere è la stazione finale del depuratore in cui ci sono dei pesci, delle capte che vivono e si riproducono felicemente a testimonianza che l'acqua che viene scaricata poi in acqui superficiali è assolutamente forse meglio di come l'abbiamo utilizzata. Adesso entriamo in quello che è il settore dell'automotive e della sua globalizzazione. Vediamo di capire perché ho detto prima che è un settore estremamente tecnico. Un settore estremamente tecnico perché richiede una grandissima specializzazione e una grandissima dedizione. Dedizione che può essere una struttura qui all'interno di un'azienda piuttosto che direttamente un'azienda e queste due sono scelte che abbiamo fatto sia per quello che riguarda l'azienda con l'inizio dell'acquisizione e poi gli impianti in giro per il mondo che molto spesso sono stati dedicati al settore dell'automotive. Senza dimenticarci che l'automotive va negli standard anche dedicati, si parla di certificazioni ISO 9000, nel settore dell'automotive c'è una certificazione che è la DS16000 che è molto più stringente e complicata da ottenere ma è fondamentale, tutti i fabbricanti la richiedono per poter essere dei fornitori. È un settore estremamente tecnico per le competenze che richiede e in questo la formazione che può essere conferita all'università come questa è fondamentale. Giusto per citarne qualcuno la solidità delle tinte, la tintura in massa è senz'altro una soluzione a questo ma non è un assioma il fatto che se è tinto in massa è solido, occorre un'attenta selezione di pigmenti così come se è tinto in filo non lo è, non è vero. Nell'automotive si possono fornire entrambe le tipologie. Il colore in sé deve essere estremamente costante nel tempo, vengono fatti dei progetti nel settore dell'automotive che possono durare degli anni dal momento in cui è stato validato e dalla prima all'ultima fornitura le caratteristiche di colore sono molto stringenti. Non so se viene fatta anche in colorimetria durante... quindi avrete idea di cosa significa delta E. Normalmente si parla di delta E inferiore a 0,5 ma non come singolo valore, bensì i tre parametri che lo compongono, quindi delta L e A e B sono sotto controllo e su delta B ci sono dei valori che arrivano anche a volte a 0,2 e questo è un costante dibattito non soltanto con i clienti ma anche con i fornitori di pigmenti più corti che di coloranti in quanto molto spesso le tolleranze a cui dobbiamo sottostare per il settore sono inferiori a quelle che vengono garantite dai produttori di coloranti o di pigmento. È molto tecnico per la rapidità di sviluppo, bisogna fare tutte queste cose in tempi estremamente rapidi, il tempo di accesso al mercato ci è sempre più ristretto per cui la parola che sentirete nel momento in cui è entrata nel mondo del lavoro sarà urgente e tutte le sue declinazioni sulla superurgenza e la iperurgenza. Queste operazioni vengono fatte ovunque nel mondo con lo stesso livello di servizio e con le stesse caratteristiche. Un esempio, si possono sviluppare dei prodotti a Wolfsburg e poi quando li acquimano viceversa, questo per esempio per la Volkswagen. E tutto questo sta diventando importante che sia anche sostenibile. Oppure ridurre i consumi per esempio direttamente e indirettamente. Questi signori qui stanno lavorando tantissimo nella sostenibilità, si parla sempre di più di auto ecologiche con diverse accezioni. Qui cito un esempio che mi serve per introdurre due concetti che sono sostanzialmente quelli che riferiscono dal prodotto che propriamo nel settore. La società Lear, che è un fabbricante di sedili sostanzialmente, quindi è la parte interna dell'abitacolo, ha lanciato un prodotto che si chiama Evolution. Ho lasciato la slide in inglese, in quanto è così come nasce. Sostanzialmente Lear, come gli altri produttori, iniziano ad integrare materiali eco-friendly, strutture alleggerite, tessuti ottenuti con materiali riciclabili piuttosto che già riciclati e combinando queste tecnologie riescono a ridurre il peso delle strutture, riescono a ridurne il costo e riescono a ridurre ulteriormente il tempo di accesso al mercato. Ovviamente la riduzione del peso è importante perché genera riduzione di consumi, per esempio nel trasporto privato, ma genera anche più servizio del trasporto collettivo. Immaginate il settore ferroviario, una carrozza più leggera, sempre di produrre treni, con vogli più leggeri che frenano prima, per cui si ne possono mettere di più sulla stessa linea. Nella slide che ho appena fatto vedere ci sono un paio di parole chiave che sono quelle che introducono il concetto seguito, eco-friendly e lightweight. Per contribuire a questa ricerca che il settore dell'automotive sta facendo, nella parte eco-friendly noi offriamo la piattaforma New Life. La piattaforma New Life è più di un prodotto, è per questo che la dominiamo la piattaforma. E da dove nasce sostanzialmente, l'abbiamo visto prima, si cerca di minimizzare quello che è l'impatto delle attività produttive, quindi delle nostre sostanzialmente, e massimizzare i benefici per la comunità. Prodotti earth-friendly, anche se, insomma, prima sono stato folgorato, in effetti, dall'affermazione che il petrolio è naturale. In effetti lo consumiamo molto di velocemente di quanto si generi, però in effetti quella è stata veramente una folgorazione. E il settore dell'automotive e del trasporto in generale contribuiscono veramente in maniera determinante al consumo di risorse e dalle emissioni. quindi, noi offriamo New Life per contribuire a questo. Quindi, è una gamma di prodotti di fili in poliestere, sostanzialmente continui, ottenuti esclusivamente da bottiglie, quindi esclusivamente post-consumo, e processati in Italia. E quello che mi piace sottolineare qui è che il processo è esclusivamente meccanico. Avete visto prima che ci sono due possibilità, chimico e meccanico, noi preferiamo utilizzare esclusivamente il processo meccanico. E poi vediamo perché. L'ho sottolineato prima nel mostrare il ciclo produttivo che abbiamo e ho detto che è molto importante avere il controllo del polimero. In questo caso qui noi gestiamo tutta la supply chain in maniera che il controllo della produzione del polimero, insomma della sua rigenerazione, sia tale da consentirci di produrre fiumi che rispondano alle caratteristiche dell'automotive in maniera costante. Il ciclo è questo, quindi c'è una raccolta di bottiglie, la pulizia, la trasformazione in scaglie e la rigenerazione. Quello che voglio sottolineare qui è che questo processo è esclusivo per noi, quindi non c'è una possibilità diversa di accedere a questo tipo di prodotto. E ancora una volta sottolineo che è 100% post consumo, quindi esiste uno standard a cui abbiamo contribuito anche alla redazione, è stato visto prima, uno standard uni, c'è stato un gruppo di lavori in Assupiber che ha contribuito alla stessa di questo standard, noi ne abbiamo fatto parte, è una dichiarazione volontaria del contenuto di materiali riciclati nei fili, ci sono alcuni polimeri che per loro natura non consentono un riciclato completo al 100%, nel nostro caso questo è 100% post consumo. È evidente che poi la piccola quota di pigmenti piuttosto che di coloranti potrebbe far ridurre proprio valore, ma la resina di base è assolutamente post consumo. Quali sono i benefici che otteniamo dalla produzione? Sono stati presentati prima con dei calcoli di LCA, come è quello che vi presento in questo caso anch'io, questo si riferisce a un chilo di New Life e quello che sottolineo in particolare è l'energia, insomma, per ogni chilo sono circa, sono più di 70 in megajal che vengono risparmiati e questo lo dico per chi potrebbe essere un utilizzatore di fili, questo non vuol dire che il prodotto alla fine poi costa il 60% in meno, perché è un concetto che a volte viene, insomma, rimane, nel senso che la parola riciclato in genere fa pensare a un prodotto che ha delle caratteristiche inferiori, in realtà questo non è vero. Visualizzare questi risparmi non è così immediato, gli chili o le tonnellate di antide carbonica equivalente si capisce molto meglio quando, diciamo che una tonnellata di filo New Life consente un risparmio di 7.660 megajal, come energia sarebbe equivalente a far girare per l'Europa una tonnellata di merce con un camion per più di 3.000 km piuttosto che un'autovettura per trasporto privato per più di 2.600, oppure un monitor come quello del computer che sto usando io per quasi 6.000 euro. Tutto questo avviene in una zona confinata di territorio, in un raggio che è circa 60 km e questo consente ovviamente dei benefici notevoli anche a livello di trasporto e di gestione, non ci sono container di bottiglio di altri materiali che viaggiano in giro per il mondo per arrivare alla stazione di trasformazione, ma si fa tutto per la parte. Ora per chi non l'ha mai visto, ovviamente la fase è a monte, quindi di raccolta, selezione e trasformazione delle bottiglie, c'è un piccolo video che è leggermente promozionale, forse lo sace se non è così tecnico, però quella parte lì è estremamente interessante, lo devo lanciare però da qui perché altrimenti non va. Il mio live è un progetto di Sintera, il mio live è uno di poliestro e continuo, condotto a partire dal riciclo delle bottiglie in pet post-consumo, raccolte ed inviate al processo di riciclo realizzato completamente in Italia. La catena di fornitura, totalmente franciabile e certificata, si sviluppa interamente in Piemonte. Grazie alla raccolta differenziata, le bottiglie di pette nuote sono depositate presso le campane di raccolta presenti nella regione. Successivamente, le bottiglie di pette sono prelevate per essere consegnate al sito di raccolta presso l'area di Torino, punto di partenza del processo di selezione. Le bottiglie sono separate per tipologia e colore. Dopo augurati controlli qualitativi, sono compresse in parte e stoccate in attesa della successiva lavorazione. Presso lo stabilimento di Fussano, le bottiglie sono lavate e macinate meccanicamente, ridotte in scaglie e poi fuse per essere trasformate nel polimero di poliestere ULIFE, pronto per la fase di filatura. Lo stabilimento di Saluzzo riceve il granulo di ULIFE, dove è stoccato in SILUS in attesa del suo utilizzo dell'impianto di filatura. Il polimero viene così estruso e si ottiene il filo continuo di ULIFE. Grazie al complesso del caso processo di filatura, è possibile creare microfinamenti dell'ordine di 8 micron per barba, più sottili delle fibre naturali. Basti pensare che le fibre di colore hanno una bellezza di 11-13 micron e del cashmere di 13-16 micron. Successivamente avviene la fase di testurizzazione presso lo stabilimento di pietra, grazie alla quale il filo assume un po' di velocità e sofficità. A questo punto il filo, che può anche essere tinto da un'umerevole colore, è inviato ai clienti che lo utilizzeranno in tessitura o in materia. I tessuti ottenuti sono particolarmente leggeri e performanti e mantengono lo stesso comfort delle fibre naturali. Neolife si trasforma in un ampio numero di prodotti tessili con proprietà quali funzionali, quali ad esempio la protezione dei raggi solari, l'azione antibatterica, l'eccellente resistenza e solidità dei colori. Neolife diventa un mondo di tessuti belli, innovativi e sostenibili. Poi nel frattempo della regia abbiamo detto che siamo tirati coi tempi, quindi cercherò di accelerare. Quindi avete visto dal video come questa attività viene spettata. Grazie a questo controllo, quindi alla gestione di questa attività, riusciamo a produrre dei fili che soddisfano in tutto e per tutto i requisiti del settore automotive e di conseguenza di tutti gli altri, le caratteristiche tessi, le prestazioni dei tessuti, le solidità delle tinte e anche le modalità di impiego. Chi utilizza i fili New Life deve fare assolutamente nulla di diverso rispetto a quello che fa normalmente con prodotti di poliestere vergine piuttosto che altre fibre. Offriamo in questo tutta la gamma, nel video si parla di fili molto fini, oggi riusciamo a produrre con soddisfazione 0,7 di tex per filamento, quindi sostanzialmente una microfibra. Offriamo in tutto il tinto in filo piuttosto che tinto in massa e nel settore dell'automotive questo trovo applicazione sui sedili, piuttosto che nelle capelliere, palliglioni e così via. È una piattaforma New Life perché oltre a un prodotto è un marchio, quindi per la promozione del marchio e per la comunicazione di tutta la supply chain abbiamo una specifica brand policy che la gestisce, abbiamo ovviamente attività di marketing e promozione che aiutano all'affermazione del marchio. All'inizio del 2014 sicuramente avrete ricevuto comunicati stampa riguardo al lancio di una collezione da parte di Max Mar, la linea Weekend che utilizza New Life e per ulteriore garanzia di tutta la supply chain siamo in grado di tracciare ogni singola fase di produzione, sia al nostro interno che successivamente. Vado sul leggero, sulla brand policy ve la leggerete, questi sono esempi di come è il materiale promozionale, se andrete sul sito che trovate alla fine della presentazione potrete scaricare anche questa parte di documentazione. Le certificazioni sono ovviamente importanti, queste sono quelle di cui disponiamo sul sistema e sui prodotti, la dottoressa l'ha sottolineato prima più volte, essendo un materiale che nasce originariamente per contatto alimentare quindi con l'acqua e le bibite, approfittiamo di questa caratteristica per ottenere dei prodotti che hanno ovviamente questo tipo di certificazione. Alcune le abbiamo ottenute indirettamente nel senso che è stato riconosciuto da enti esterni, in questo caso l'EPRO ci ha confermato, diciamo che nel 2012 il Vestor Cycle Plastic Product, quindi un riconoscimento per l'attività di riciclaggio e recupero delle materie plastiche, nonché nel 2012 il Ministero dell'Ambiente con la Camera di Commercio di Roma conferì i premi impresa e ambiente e New Life ottenne questo riconoscimento. Parlavo prima della tracciabilità, siamo in grado di confermare se il prodotto di cui stiamo parlando è New Life piuttosto che no, riusciamo a farlo con un'analisi sostanzialmente semplice che esegue gli antindipendenti in quanto non vogliamo essere quelli che ci diamo ragione sostanzialmente, quindi da cosa si può fare e quindi è estremamente affidabile. L'altro concetto che avevo introdotto con l'esempio della societalia era quello del lightweight, sostanzialmente della riduzione del peso delle strutture. È un tema assolutamente di moda, questo è un estratto della rivista Mobile Techs, quindi una rivista specializzata dei testi per il settore del trasporto dove si sottolinea che i fabbricanti stanno lavorando moltissimo alla riduzione del peso dei veicoli, in quanto questi negli ultimi anni sono sostanzialmente cresciuti, quindi vedete una massa media che fino a metà degli anni 2000 è aumentata per poi sostanzialmente stabilizzarsi e oggi si sta tentando di ridurle, di alleggerle, le macchine sono anche cresciute con la dimensione negli anni, guardate la 500, negli anni 60 e quella di oggi, una sembra la custodia dell'altra, quindi i pesi di conseguenza si sono incrementati, però stanno aumentando sempre di più gli utilizzi di leghe leggere, acciai speciali, alluminio e magnesio, materiali compositi, avrete visto la BMW i3, è quasi interamente costituita da compositi, tutta elettrica, quindi l'alleggerimento è un tema. Dove possiamo contribuire noi come tessili e poi come filo, in un'automobile ci sono tessuti che vanno sui cedili, pannelli di porta, padiglioni, ci sono le mochette, ci sono i tappetini, ci sono i tessili che non si vedono, quelli che rivestono i cavi del motore per esempio, ci sono quelli che neanche a prendere il pofa non si vedono perché sono fibre di rinforzo per pannelli di porta, quindi la struttura del pannello, noi produciamo filo, quindi giochiamo sui tessuti e tutti questi prodotti che abbiamo, fili testurizzati, ritorti, possono diventare una nuova gamma che si chiama featherweight, quindi un peso piuma sostanzialmente, quindi un alleggerimento della struttura, un alleggerimento del tessuto che può arrivare fino a un 20%, in un'automobile ci sono all'incirca 12 metri di tessuto, 10-12 metri, il peso del tessuto può essere tra 250 e 300 grammi nella maggioranza dei casi, quindi il 20% di questa quota può essere quasi un chilo, sembra pochissimo ma deve essere visto come una componente di tutta la struttura per cui un chilo sui tessuti, un chilo sui pannelli, un chilo su altre strutture, alla fine si ottengono delle riduzioni importanti. Qual è il vantaggio di questa, della riduzione del peso? È che siamo in grado di offrire featherweight anche per la struttura new life sostanzialmente, quindi combinando le due piattaforme, la riduzione del peso e il new life, riusciamo ad avere un prodotto che soddisfa entrambi i requisiti. A questo punto penso sicuramente di aver scorato di qualche minuto, però concludo in questo modo, quindi il settore è tecnico nell'automobile ma è possibile comunque crescere e farlo in maniera sostenibile rispettando i requisiti contribuendo attivamente alle riduzioni e ovunque nel mondo allo stesso modo. Qui avete contatto del collega che ha contribuito alla presentazione e dei prodotti new life. Grazie.